La politica per disquisire dei temi tal caldi, che per l'appunto sono tanti e tra loro, ma che soprattutto hanno un impatto molto forte per il nostro territorio. Ne parliamo con Luigi Cirillo, consigliere regionale più Europa. Bentrovato, grazie di essere qui con me quest'oggi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Senta, parliamo da un tema sempre più caldo, parliamo dell'autonomia differenziata. Venerdì si è tenuta qui a Napoli una manifestazione importante per dire no al DDL Calderoli sull'autonomia. Un DDL che tra l'altro nell'ultimo CDM ha ottenuto anche il via libera con la palla che però adesso passerà al Parlamento. Posso chiederle se le condole quali scenari aprirebbe tale riforma? È da sempre che la Lega, aggiungo Nord, porta avanti il tema dell'autonomia differenziata affinché più risorse restino alle regioni del Nord, anziché fare una perequazione su base nazionale per consentire ai cittadini italiani di avere pari diritti in tutta Italia. Invece la volontà è chiara di creare una spaccatura netta tra il centro nord rispetto al centro sud. Questo aggraverà sicuramente una condizione di ritardo di sviluppo delle regioni in parte a Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia. Allora la riforma chiaramente si sta portando avanti, è stata condivisa con i sindaci? Assolutamente no. Io ho sostenuto l'iniziativa della rete dei sindaci che qui in Campania si è mobilitata per portare avanti la teoria contraria rispetto a questa autonomia. Il fatto è che non sono stati ascoltati, è stato condiviso questo processo che interesserà direttamente i comuni e le regioni. I scenari sono che chiaramente con un sistema che differenzia la distribuzione di risorse automaticamente comporterà diversi diritti, diversi livelli di prestazioni su base nazionale e su base quindi delle singole regioni. Quindi da parte mia come consigliere regionale della Campania, come gruppo di più Europa, sto sostenendo fortemente contro questa riforma. Continuiamo a fare un lavoro che tra l'altro il Presidente della Regione De Luca sta portando avanti in antidesi rispetto, nonostante i tentativi di dialogo assolutamente vanificati da una incapacità di ascolto. Ha rinnovato il suo impegno contro l'autonomia di residuo fiscale, quindi le chiedo se alla fine questa legge si farà o no. Anche perché sono tante le incognite fra queste e tanti nodi cruciali come il mondo della sanità e il mondo della scuola, in cui in una regione come la nostra il fenomeno della dispersione scolastica è un fenomeno in rapida e continua ascesa. Quindi le chiedo se anche in quest'ottica essere vicino agli studenti in ottica di supporto psicologico possa fornire un buon punto di ancoraggio. Se guardi le ultime classifiche, se vedono le università del mezzogiorno in basso tutte le classifiche, perché il sistema di riparto dei fondi si basa ancora su un principio che guarda alla premialità e alla capacità degli Atenei di produrre ricerca scientifica, di garantire servizi, nel senso che già da oggi quegli Atenei, quelle università che garantiscono di più, ricevono più fondi ed è un non senso, in realtà dovremo andare a intervenire per aiutare quegli Atenei che in qualche caso sono in ritardo a fornire più servizi. Quindi già ne abbiamo una criticità. Poi partiamo con l'autonomia e quindi a partire dalla scuola dell'infanzia si attuerà questo sistema di premialità che poi è negativo nel nostro territorio, a partire quindi dai livelli minimi di istruzione, appunto la scuola elementare, la scuola media, quindi io sono ancora più preoccupato perché nonostante gli sforzi che ad esempio il governatore ha fatto rispetto al tema del trasporto gratuito per gli studenti, che è unico su base nazionale, lo facciamo solo in regione campagna, e lo si fa dal 2015, dal primo giorno di insegnamento di questa giunta regionale. Poi c'è il tema delle borse di studio, nonostante si mettono più fondi, più risorse, abbiamo attinto dalla programmazione europea, dai fondi POR per garantire a questa platea enorme di studenti che abbiamo in campagna, dove i livelli di sé sono bassi e quindi la platea dei beneficiari è alta in questa regione, si è garantito che non ci fossero più i famosi donne non beneficiari, cioè quelli che avendo diritto non prendono la borsa. E questi del governo, anziché aiutare gli Atene del Sud, continuano a darci l'euro con questa autonomia differenziata. Quindi capirete che per quanti sforzi facciamo però poi il governo non ci aiuta. A proposito di sforzi dei governatori, io mi soffermerei anche su un altro punto dello stesso, perché il governatore intravederebbe due sole proposte per avviarci a quello che potrebbe essere un futuro rosio per il meridione, ovvero fare del Sud un'unica grande zona speciale, ovvero zona economica speciale, quindi la ZES, ma soprattutto varare un piano di assunzioni per 300.000 giovani del Sud, prima che si completi la totale desertificazione dei nostri territori. Tali piani potrebbero essere attuabili? Allora, per quanto riguarda le zone economiche speciali, quello è il futuro, lo stiamo facendo già in questa regione, ce ne sono varie che stanno creando, partendo da Nola, e è chiaro che l'idea molto lungimirante del governatore di ampliare a tutto il Sud è ambiziosa, però occorre progettualità, occorre soprattutto che si va nella direzione di voler puntare su questo mezzogiorno e allora l'argomento di cui parlavo prima forse va in antitesi rispetto a quello che stiamo dicendo oggi. Per quanto riguarda questo tema, è chiaro che da parte nostra c'è stato di sostegno a voler portare avanti un'idea di mezzogiorno che guardi in senso complessivo, anche per quanto riguarda il tema turistico, nel senso che l'idea di migliorare le infrastrutture, questo comporta una programmazione nazionale che non fermi le risorse su base regionale, alla fine è come un crescetto che gira attorno alla ruota. Se non definiamo bene qual è la linea politica da quei prossimi cinque anni, se guarda a un'Italia che si sviluppa in modo unitario, oppure pensare alle regioni già sviluppate che stanno nel nord. In quest'ottica, naturalmente, a dirà dell'autonomia della zona delle ZES, il tema sociale resta comunque un tema molto forte nella nostra regione, dove i servizi oggi ancora scarseggiano per i più precari, ad oggi i contributi possono davvero bastare? Se parliamo di sociale, noi dobbiamo parlare anche di un'emergenza che stiamo per affrontare, nel senso che da qui al prossimo anno non ci sarà più la misura del reddito di cittadinanza. Questo creerà un'emergenza sociale perché al netto di tutte le critiche che si possono fare a questo sistema, a questa struttura che si è posta in essere in Italia dal precedente governo, è chiaro che all'atto in cui svuoti una misura di assistenzialismo a chi comunque, non raggiungendo i livelli minimi per non essere considerato povero, non offrendo un sistema che vada a investire i suoi centri per l'impiego, questi che fanno? Allora, questo mi preoccupa particolarmente, ma anche quando il governo di cino destra dice no ma noi garantiamo comunque i disabili gravi, i livelli diciamo minimi veramente, però tutta quella fascia di persone che oggi non lavora è al netto dei furbetti, quello metto un attimo da parte, quello è un sistema diciamo che si va combattuto ed è stato combattuto, ma dopodiché le persone oneste che non hanno lavoro e il sistema non gli garantisce un posto di lavoro, che devono fare? Quindi anche quello mi preoccupa particolarmente. Dopodiché sul tema del sociale, devo dire la verità, con la storia Fortini, la storia sociale già dal 2015, questa è la seconda volta che lo è, si sta facendo un lavoro importante, lo si sta facendo per quanto riguarda l'assistenza ai disabili, prima quei semi non erano fortemente toccati, anche nella precedente consigliatura, 2010-2015 con Caldor, oggi invece il lavoro si sta facendo anche attingendo anche i fondi europei, quindi devo dire su questo c'è un'attenzione importante. E senta, in questi giorni sei tornati tanto a parlare anche di diritti civili, con il tema dell'adozione da parte di coppie dello stesso sesso, in quest'ottica PD, più Europa e Movimento 5 Stelle hanno depositato testi per matrimonio egualitario, trascrizioni di figli e anche adozioni per le coppie gay, battaglie queste sicuramente su cui il paese è davvero in notevole ritardo. Posso chiedere se secondo lei riusciremo a colmare tale gap, ma soprattutto se vi sarà un vuoto, cioè al momento c'è un vuoto normativo da colmare, quindi riusciremo a riempirlo tale vuoto? Allora io non sono ipocrita, per me non solo non si colma il gap, ma andiamo indietro di penso una decina d'anni di questo passo, nel senso che è chiaro, io sposo queste battaglie da sempre, da prima che fossi consiglio regionale, dopodiché il tema è queste battaglie che, meno male che sono condivise tutti questi partiti, compreso diciamo più Europa, che anzi di questo ne fa una battaglia storica, il PD oggi sposa questa linea, ben venga, un'iniziativa di Riccardo Maggi, che è il nostro segretario nazionale, di recente eletto nel nuovo congresso di più Europa, porta avanti queste proposte sottoscritte dai vari partiti opposizione, ma il governo cosa fa? Io nutro forti dubbi che un governo, al cui interno ci sono esponenti che già in passato hanno detto che le famiglie arcobaleno non esistono, non sono un fenomeno a considerare, la vedo difficile che si possa combattere quel gap, anzi ho paura che le conquiste finora fatte, si possa poi pensare di andarle a rivedere in sensi tonalità. Quindi andare in totale recessione, anche perché in quest'ottica Fratelli d'Italia si opposse in modo duro anche sul tema della maternità surrogata, a proposito il presidente della Commissione Cultura della Camera, ma anche esponente di Fratelli d'Italia, Mollicone, parlando della maternità surrogata, ha detto, e vi leggo il virgolettato, è un reato grave, più grave della pedofilia, siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa. Lei cosa risponde? Cosa ne pensa? E cosa dobbiamo rispondere? Siamo un paese civile nell'Europa del 2023, stiamo ancora a parlare di questi argomenti, in altri paesi queste sono conquiste fatte nei decenni addietro. Io poi dico, noi siamo in Europa, in Unione Europea, dove dovremmo garantire una legislazione uniforme, invece facciamo in modo che per avere un diritto della persona in questo paese lo si deve andare a conquistare in altri paesi e poi tornare qui a fare gli artifici e le illusioni normative. Questo è prendersi in giro, è prendere in giro i cittadini e soprattutto fare politica su temi etici che dovrebbero vederci uniti, tenuto conto che la Costituzione dice che siamo uguali davanti alla legge, senza discriminazioni, e purtroppo che oggi governa questa attiva Costituzione mi sa che non si può applicarla. Senti, da poco si svolta anche l'Assemblea Nazionale più Europa, verso quale direzione andrà il partito, ma che cosa può rappresentare tale partito per il futuro della nostra regione Campania? Allora, il nuovo congresso ha visto un avvicendamento delle posizioni, nel senso che Riccardo Maggi, da Presidente e nuovo segretario nazionale, faccio tanti auguri, lo sostenuto in questo congresso, Federico Pizzarotti, con la sua grande capacità amministrativa, dimostrata negli anni, sindaco di Parma ha avuto modi di farsi valere su quel territorio, e il nuovo Presidente del partito. La direzione qual è? Più Europa si è sempre mosso un po' come partito d'azione, su base nazionale, raccogliendo un voto di opinioni importanti, perché storicamente Mabbonino ha ancora prima pannella, e questa partita ha dimostrato di esserci su temi importanti con forza, e anzi oggi si fa promotore di iniziative importanti che altri partiti seguono. Però c'è un tema, il radicamento territoriale, il fatto di non presentarsi spesso a livello amministrativo, i risultati che ha riscosso nelle recenti elezioni regionali del Lazio, dimostrano che c'è da lavorare. La direzione nuova di questa nuova direzione nazionale, di questo nuovo segretario, di questo nuovo Presidente, che io sposo appieno come linea, è quella di radicarci territorialmente. Ci sono delle sfide a queste elezioni amministrative in comune importanti, cito Torre del Greco per farne un esempio, cito Marano, è l'ora lì che Più Europa si deve presentare, e io lavorerò come consigliere regionale affinché ci si presenti, perché so l'importanza di politici che siano espressi con il voto dei cittadini, perché quella è la vera vicinanza tra la persona che ti vota rispetto a tu che la devi presentare. Grazie di essere stato qui con noi, buon lavoro, ringraziamo Luigi Cirillo, consigliere regionale più Europa, pubblicità, restate con noi. Grazie.